Dopo il tampone e il risultato positivo al coronavirus e così in via precauzionale l'ASL ha chiuso gli uffici di piazza Maresciallo Dimitri, opportunamente sanificati e pronti a riaprire già dalla prossima settimana. Il caso di positività è stato accertato nei giorni scorsi e ha riguardato un dipendente che per motivi lavorativi frequentava i locali in uso del centro di vaccinazione. Per questo l'azienda sanitaria ha temporaneamente sospeso il servizio causando qualche malumore tra chi, lamentando scarsa comunicazione, si era regolarmente recato presso l'ufficio a fronte di un appuntamento già fissato. Dopo aver registrato la positività del dipendente, d'altro canto, si è reso opportuno sanificare i locali e mettere in quarantena il personale entrato in contatto con il positivo, ora in attesa di tampone. L'apertura al pubblico degli uffici e quindi il ripristino del servizio è atteso per la prossima settimana. Grazie.